Ciao a tutte ragazze, oggi voglio farvi un video tag di cosa c'è dentro la mia borsa E questa qua Oggi sono a casa di mia cugina Gloria che è questa Ciao! E questa l'altra, Serena Allora, iniziamo subito cosa c'è dentro alla tastina piccola C'è un pacco, un passo adesso Un pacco di fastoletti, questi qua della Scortex Poi c'è il mio portafoglio Normale Poi c'è questo bloc note con questi umili Ecco, è della To-Do-List To-Do-List Scusate, era mia cugina Poi c'è un foglietto dell'IKEA Qua Poi c'è una bottiglietta d'acqua naturale E poi c'è uno specchietto Poi c'è anche una biro Questa qua, viola Per poi magari se la matita si è rete alla punta del bloc note Ce l'ho Poi ho la mia pochette con marca le pannorine E poi dentro ci sono i trucchi Però i trucchi non ve li faccio vedere oggi e ve li farò vedere in un altro video Così almeno Fa me sia un po' più comodo Perché se no questo video durerà molto Molto Poi c'è questo burro cacao Della linea Dolcezza E' anche usato Il burro cacao li uso Poi c'è un'altra matita Però questa qua è dell'IKEA Poi c'è Poi c'è una graffetta Non so che cosa ci faccio qui Nella bocca Ma va bene Poi un elastico E questa carta di queste caramelle Che a mia cugina Gloria e mia cugina Serena Fanno in passione E poi Faccio i trucchi E quindi il video è finito Perché è dentro la mia borsa Niente Tranne le colpe che ho messo adesso Che vi ho fatto vedere E spero che il video vi sia piaciuto Mettete un pollice in su Scrivete sotto nei commenti che video volete E adesso lo faccio soltare alle mie cugine Una Ciao Gloria E l'altro Ciao Quindi il video è finito E vi mando un grosso bacio E ci vediamo nel prossimo video Ciao Ciao